La la la, giunga 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 Il signore Vespa? Ad avaccettandola per trovarla viva Mannaggia rieccola Buongiorno a tutti! Oh mamma mia, ti prego abbi pietà di noi Che puzza, Ercole! Ciao, ciao! Bibì! Idolo di Porto Rosso in arrivo! Ciao, belle! Così mi fai arrossire? E ora, chi vuole vedermi pappare un mega panino? Trovato! Ecco come gireremo il mondo! Ehi, ce la ridai?